Mi hanno dato un curriculum vitae di Di Maio. Lui come attività professionale vanta questo, svolgo, ecco questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster. E questa è una cosa grossa, lei ha mai sentito uno a cui chiedeva tu che lavoro fai, webmaster, che è una formula elegante per dire lo sfaccio in data, fa niente.